questo scapo è stato realizzato e concepito e progettato non non solo con l'obiettivo del più performance ma soprattutto per darci la possibilità di fare lo sviluppo di cui abbiamo bisogno tiriamo fuori la barca e poi avremo un incontro per capire quanto ci manca ancora per andare in acqua speriamo pochissimi giorni e l'elecchio 12 è una barca che può progettare sviluppare e costruire sotto tutto il controllo grazie a tutti